E' bella a tutti ragazzi, eccoci qui a questo nuovo video su GTA V Online Oggi siamo in una nuova gara parkour con il mitico Suino Questa gara è stata creata da Gabrikel, vi lascio il suo canale in descrizione Grandissimo Gabrikel Allora, andiamo a vedere che ha creato Il nostro amico Gabri Oh, 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 ferma, ferma, ferma Ok, zio, ok, zio Ok, zio Regà, c'è caldo oggi, può essere che vaneggio un po' però è normale Sono tipo 40 gradi Sembra di essere in Africa adesso Allora, andiamo, siamo belli quarti per ora Siamo a quartieri Lì vedo una rampa Allora Yes Passiamo Oh, io sono inizio Qui, lo, madre mia No, scusa, ho trovato il Suino Però ho fatto l'infilata, regà Madre del cielo Allora Wow, 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 wow Non so Perché se è caduto Arrivano, 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 arrivano Allora Madre mia C'è qualcuno che stava a volare dietro Chi è? L'ansia raga che sto a combinare? ma che sto a combinare? oggi ho le mani del ricotto no no ultimo no devo andare piano devo andare a 2000 un parkour non è mica una gara statua devo andare a 2000 allora con calma i parkour si fanno con calma ok check preso ora bisogna salire qua un manu eh 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 tosta raga perché non c'è niente che ti ferma lì quindi tocca fermarti tante parti so così mamma raga non è tanto difficile adesso siamo in 50 no siamo in tanti volevo dire siamo in tanti e quindi eh ah così insomma no 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 dove sto ok allora eh so parecchie eh dobbiamo fare anche questo no 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 che sfortuna raga che sfortuna io non ci credo che sfortuna che sfortuna nel parkour troviamo sono gli altri giocatori perché senza altri giocatori easy rec easy rec invece con gli altri giocatori diventa impossibile allora siamo secondi eh meno male chi è il primo antipaolo antipaolo adesso te becco allora facciamo sta parte che adesso qua abbiamo una casetta la casetta in canada la la liru la 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 vedete che fa un flip ah no cosa ho fatto regga va bene va bene mi sa che era da fare col muso comunque va benissimo basta l'abbiamo passato questo è l'importante allora qua madre del siel madre del siel madre del siel adonno si bugga regga si bugga sta macchina è unta penzola sta macchina penzola adonno ah adesso mi recuperano tutti se non mi muovo ma come si fa sta parte allora con calma prima l'avevo fatta bene ho rischiato vabbè gg gg per il suino regga però sta macchina quanto cado madre mia ah grazie sui che mi hai aspettato mi stavo per trolla eh mo qua buona fortuna c'è un'altra parte un gg rack qua ah preda madre mia no è caduto madre mia vediamo sto check vediamo sto check vediamo sto check questa parte lì ehm retromarcia mi dicono non avevo visto il turbo ok ok retromarcia bella bella gara di gabricol como non è difficile no credo no allora andiamo nella prossima oh qui c'è il check ho 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 yes yes baby abbiamo preso il check c'è una miniatura qua mega rampa acquatica madre di dio non mori no no comprendo qua io sono andato a manetta sto ragazzo tutta a manetta o dobbiamo avere la fortuna del ciclo a ecco dobbiamo avere la fortuna che non c'erano onde ovviamente io con la fortuna che io avrò beccato e qua a parte invisibile sto dicendo con la fortuna che ho l'ho becchiato l'onda quella più grossa è un attimo che mi sposto c'è un altro io non vedo qua la seconda parte l'ho fatta a fortuna perché non ho visto niente non ho visto niente allora allora qua c'è l'ostacolo ora momento adatto ora non cadi non cadi non cadi ti prego non cadi qua sto sudando sta parte madre mia rega questa parte mi ha fatto sudà ok ora cosa abbiamo non ho capito cosa c'è qua perché mi sono trollato lì non ho capito questa parte rega col freno devo fare retromarcia ah no devo andare piano 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 so che devo andare retromarcia perché sbattevo la ok ok qua c'è una panchina che ti aiuta la panchina qua c'è il freno retromarcia c'è il freno della sta macchina retromarcia l'ho mai trovata vediamo un po ho provato la trax che l'ho messa una parte così con la trax però con questa non l'ho ancora trovata però se l'ha messa gabrigoro vuol dire che si può fare se no è ma scivola madonna quanto scivola questa macchina ah raga non scivolare ok ce l'abbiamo ce l'abbiamo non cade madre mia ce l'abbiamo anche questo check e lì c'è la fine rega oh mio dio che chiare rita che chiare rita di gabrigoro bella bella allora abbiamo cos'è la una casetta di freni ah ma c'è l'altra guardia aspettiamo il suino dov'è il suino ecco addio il suino ma vedete sta parte qua rega questa qua con la retromarcia bisogna essere abili a fare quella parte perché se non perchè non è facile adesso avete visto me che ce l'ho fatta bene ma perché faccio level asian questa è una parte da level asian rega che sta in detromarcia quindi bisogna essere proprio dovete sfiorare il joystick il pad proprio leggermente se no non ce la fate a fare sta proprio deve essere delicato tipo dei chirurghi chirurghi allora poi è una bella gara rispondiamo un attimo così mi metto la macchina bella pronta pulita tarararara tararara la macchina bella pulita vai su vai su vai su una bella prima posizione abbiamo fatto tutto veloci rega rapidi rapidi e indolori era qua mi sa il suino usui lucifer madre mia lucifer abbandonato abbiamo non so se l'avete visto lucifer la serie tv è lui eh è lucifer dovrei fare qualche tentativo ma secondo me devo chiedere nella casetta all'indietro cioè facendo un flip tipo adesso vi faccio vedere facciamone se no non è che se cado poi ne dobbiamo fare ecco qua l'ha il suino usuuu grande il suino usui 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 guardate il suino che è scattante beccate qui sui vai vai sui è prima era la tua vai sui vai 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 ole ole usui usui che fai sti gestaccia beccate questo beccate qui usuuu no si è buttato da sotto usui perché si è buttato da sotto esce qua ah mare scemare spaudiamo anche noi usui oh stai avuto il giorno qua dai andiamo a concludere cazzo no non la finiamo più sta gara andiamo a concludere se riusciamo ovviamente perché bisogna vedere anche se se si riesce allora è fermo il suino 13 minuti di carerita direi che possiamo anche concludere un bel bel parkour di cabricol molto easy che facciamo andiamo a prenderci sta bella prima proviamo vediamo oh manus yes bella bella gara di cabricol allora spero che questo video vi sia piaciuto lasciate tanti like arriviamo a 100 like per questo video attivate la campanellina per non perdervi nessun video noi raga come sempre ci becchiamo al prossimo video bella regà bella regà